Ad Arte Salerno 2017, un artista politica, fotografia, pittura e tant'altro, con un artista che ha girato, quando vengono le sue opere, hanno visto tutto il mondo, Gabriella Di Natale, raccontaci la tua arte. Beh, io dipingo su tela con acrilico, da sempre, dipingo diciamo da quando ero piccola, 4 anni, sono un'autodidatta, vengo dalla Sicilia, Piazza Armerina, in provincia di Enna, e i miei lavori sono proprio frutto dei viaggi che ho fatto in Africa e quindi questa passione l'ho voluta riversare tutta sulle tele. E mi raccontavi che la tela che il nostro pubblico sta vedendo fa parte di un ciclo storico, giusto? Sì, fa parte di una raccolta che si chiama proprio Visi e Risi, che ha viaggiato proprio in tutto il mondo, New York, Dubai, Roma, e poi sono approdata qua, grazie all'Arte Salerno. Gabriella, un grazie sentito e buona arte. Grazie.